Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Nuovo video fuori piove ragazzi adesso vi faccio prendere il panico No no veramente non toccare Oh mio dio Mi viene già Mi vengono già le vertigini Abbiamo raggiunto 5 like quindi ragazzi Quindi ragazzi vi è uscito questo video No 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 Non lo lascio andare No ragazzi che paura Madonnina ragazzi al piano zero Perfetto Siamo sempre con l'olno Ragazzi è successa una cosa terribile Allora eravamo sull'ascensore Siamo arrivati al piano terzo dell'altra parte Ha iniziato a suonare una cosa Ha iniziato a suonare siamo scappati Dalla paura pensavo esplodeva ragazzi Vero? Vero racconta tutto Si è E' esploso tutto Per me stava esplodendo tutto Io ragazzi oggi sono questo Lui è questo E lui è questo L'ascensore è questo Schiacciamo più volte Questo qua ragazzi è l'esperimento E' l'esperimento quello che vi dicevo Madonna mia ragazzi Che paura Guardiamo se arrivo Perfetto ragazzi E' il tre E' qua E' qua ragazzi Perfetto noi scenderemo all'uno All'uno e tutto qua Ci vediamo al piano uno Invece no ragazzi Non ci vediamo al piano uno Testa Come è caduto su testa? Ragazzi invece Non siamo al piano uno Siamo sull'ascensore Ragazzi guardate che paura Si mi caramente che si spaccano i vetri Spaccano il vetro Si spacca il vetro Giù tutti Cadiamo giù tutti Ma no Perché Andiamo al piano zero Ragazzi andiamo al piano zero Così esperimentiamo Chi ci guarda Ma no Facciamo il piano zero Giochi dai Perfetto allora Siamo al piano uno Fa caldo Scendiamo all'uno All'uno Perfetto ragazzi Scendiamo allo zero Va bene ragazzi ci siamo Stiamo scendendo Stiamo andando in sala giochi Lui sta andando io no? Si anche lui viene andando Si va bene Vado anche in sala giochi A fare niente ovviamente No io non uso niente Allora c'è la gioca Chi è? Guarda che lo veste qua Ragazzi andiamo Ci sentono già rumori Speriamo di incontrare Lucas Jim Lucas Jim Ragazzi quando sei in sala giochi Ti viene voglia di giocare E quindi noi giochiamo Come delle persone normali E normali Tutti noi siamo E quindi ragazzi giochiamo Fa anche rima E tipo se noi giochiamo Poi giochiamo Io e Lollo Non so se mi sentite Ancora Ho aperto l'aula Guardate Tutti qua sono anche roba di bordo Perfetto Scusatemi un attimo Perfetto prendiamo Anche noi due gettoni Così a caso dopo ne prenderò di più Ragazzi proviamo la verità Ragazzi proviamo la verità Perfetto ragazzi ho beccato uno 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 ed è molto Sono molto felice Lui Ragazzi Ragazzi Questo qua ragazzi Fanno proprio schifo Questo qua ragazzi Non si chiamerà L'esperimento Perché ragazzi E' una tutta una cavolata Quindi sarà Serata alla sala giochi E ragazzi È quasi finito Il video E punto Diciamo andare a vedere È vero Ci sta Ci sta Stavolando C'è 5 Dici che c'è Dato questa E me li dà Fagli cambiare Perfetto ragazzi Spero vi sia piaciuto E tu Spero vi sia piaciuto No no Perché come fai Spero vi sia piaciuto Il video Perché mi piace 5 like Per un altro video Per un altro vlog E noi ragazzi Ci vediamo al prossimo video Anche da Lollo Anche da Lollo